Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con la rassegna stampa di venerdì 28 gennaio. Iniziamo quest'oggi dal Corriere delle Alpi. La prima notizia a tutta pagina, tragedia a sedico, travolto mentre va al lavoro. Alberto De Villa Gobbo, 51 anni, pedalava verso Luxottica. La compagna e collega vede la scena, uscendo a fine turno. Una tragedia consumatasi ieri nel primo pomeriggio. C'è anche l'immagine della vittima Alberto De Villa Gobbo che stava recandosi al lavoro in bicicletta. La foto di prima pagina di quest'oggi del Corriere delle Alpi è dedicata allo sci. Coppa Europa, Dolmen, conquista il suo primo oro. L'auronzana dell'esercito sbanca a St. Henton. Prima vittoria in Coppa Europa per Elena Dolmen. La ragazza di Auronzo si è imposta nella discesa libera austriaca, centrando il primo successo nel circuito continentale. Ma andiamo all'interno del giornale. Le prime pagine sono dedicate alla elezione del Presidente della Repubblica. Si tratta, ma il nome condiviso non c'è. Crescono i voti su Mattarella, risale Draghi. La Lega rilancia su Frattini e Casellati. Il centro-sinistro insorge. Così crolla tutto. Oggi si vota per il quinto scrutinio. Da Cirio a Toti la protesta dai governatori. Facciamo in fretta. E come si capisce anche da questo titolo, da questo insieme di notizie, la situazione non è ancora sbloccata. Ci sono varie ipotesi in campo, ma c'è anche tensione fra le forze politiche sul metodo da seguire per arrivare a un nome condiviso. Dal momento che nessuna forza da sola ha i numeri per poter eleggere il Presidente e neanche lo schieramento o di centro-destra o di centro-sinistra da sola può riuscirci. La resa dei conti. Salvini brucia candidati. Letta teme la crisi. Conte evoca il voto della base. Di Maio stiamo andando tutti a sbattere. E così si va a elezioni anticipate. E questo anche sono alcuni spunti di una riflessione che propone oggi e il Corriere delle Alpi su questa vicenda della elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Tentazione Mattarella. Ieri ho oltre 160 preferenze per il Capo dello Stato. Cresce la frustrazione tra i grandi elettori. Il Presidente garantirebbe stabilità, ma per convincerlo serve un appello corale dei partiti. Questa è un'altra delle analisi proposte oggi dal Corriere delle Alpi. Casellati colpita da fuoco amico. E Zaia su Draghi. Non va perso. Sulla padovana Presidente del Senato il no della Bernini. De Carlo, di Forza Italia. Casini è un esponente del centro-sinistra. Il Presidente Veneto sul Premier. Evitiamo il rischio di perderlo. Come si sente anche all'interno dei vari schierimenti, in questo caso del centro-destra, ci sono idee diverse e anche sottolineature diverse. Ma dal tema politico della elezione del nuovo Presidente passiamo al tema del sanitario, dell'emergenza sanitaria della pandemia. Omicron frena. Contagi in calo dopo 13 settimane. Il Governo va incontro alle richieste delle Regioni. I nuovi casi, in sette giorni, sono stati 1.197.000. Alto il numero delle vittime. Ieri sono morte 389 persone. E per quanto riguarda la Regione Veneto, il boom di positivi e quarantene blocca le vaccinazioni dei bimbi. Il pediatra, la settimana scorsa, su 497 bambini prenotati, se ne sono presentati appena 197. Nella fascia d'età tra 5 e 11 anni, la vaccinazione con le prime dosi ha raggiunto il 30% della popolazione. Monito di damati. Troppo rischioso autorizzare il rientro in aula dei ragazzi infetti, ma asintomatici. E per quanto riguarda il bellunese, i medici di base facciamo da parafulmini. L'allarme dello snami, sernaglia e rossi, tutto è scaricato su di noi. Finiamo con il diradare le visite ai malati oncologici. Mancano autisti per le ambulanze e servizio a rischio. L'Ulss cerca sostituti. La carenza di personale interessa a tutti i settori. A gennaio scadono i contratti di 5 addetti. E ancora nel weekend, seduti di vaccini e tamponi proposti dall'Ulss Dolomiti. Ma andiamo avanti sulle pagine del Corriere delle Alpi per raggiungere quelle che riguardano la provincia di Belluno. La scuola verde sarà abbattuta. Cavarzano avrà un istituto migliore. Si tratta di un progetto da 5,2 milioni che comprende anche gli spazi esterni. Il sindaco Massaro dovrà essere collaudata entro il 2006. Si tratta di uno dei 13 progetti per la riqualificazione urbana che sono stati finanziati per il comune di Belluno. Codogno, la dirigente dell'istituto. Le nostre idee faranno la differenza, un investimento sul futuro. Il nostro istituto, parlando della scuola di Cavarzano, è pieno di infiltrazioni d'acqua. Le lezioni durante i lavori troveremo una soluzione. Una stagione d'oro sul colle del Nevegal e ora ripartono le sciate in notturna. Molin, migliaia di presenze ma i costi sono raddoppiati. Appello agli sci alpinisti non scendete sulle piste di notte. Patinaggio in piazza Duomo a Belluno Pista aperta fino al 6 marzo. La soluzione per accontentare le scuole e i giovani bellunesi. QR code come stelle gialle coro di sdegno a Belluno e Feltre affissi volantini che paragonano il Green Pass alle discriminazioni patite dagli ebrei. Il sindaco Massaro sottolinea intollerabile. Il primo cittadino di Belluno ordina la rimozione di questi volantini. Il presidente del Veneto Zaia il dissenso va espresso ma con civiltà. E' stata ferma la condanna di numerose autorità anche del ministro d'Inca rispetto a questa iniziativa di paragonare le stelle gialle che identificavano gli ebrei da parte del nazismo con il Green Pass. Dall'estero solo con Green Pass gli alberghi. Ora respiriamo. Via libera ai turisti dell'Unione Europea. Niente tampone per entrare in Italia ma gli operatori lanciano l'allarme rincari dei costi. Andremo in sofferenza. Demenech, l'onorevole Demenech i sindaci devono partecipare alle scelte sulla sanità. Scelte che potranno anche avvalersi dei fondi del PNRR. Ieri si è anche svolto a Belluno il funerale di Monsignor Ausilio Darif. Il vescovo, don Ausilio in cielo con Luciani, sarai il suo primo segretario da beato. Eri tenero e tenace, gentile e indomito. Queste alcune espressioni usate nel corso del funerale. Vandalismi e risse. Gidoni invita il referente della Lega a fare rete per aiutare i giovani a Belluno. L'ARC ritorna in piazza l'Associazione per la ricerca contro il cancro. In montagna c'è da lavorare. Con le iniziative Arance per la Salute, fondi in favore di ricerca e prevenzione, nuovi stand in Agordino. Vogliamo raggiungere anche le aree più isolate, dicono dell'Associazione. Ed eccoci a Feltre. Distribuiti 43.000 euro per dare una mano ai volontari della città. Delibera del Comune per sostenere le attività sul territorio. Individuate 22 realtà locali meritevoli di aiuto. Sacchette, il Presidente del Consiglio Comunale, sono fondi destinati a chi migliora l'offerta per cittadini e turisti. Il Presidente della provincia, in visita all'Istituto Scolastico Negrelli di Feltre, che aveva subito un atto vandalico nel fine settimana che aveva costretto per la pulizia e la sistemazione dei locali a lasciare a casa anche gli studenti in didattica distanza, appunto nella sua visita il Presidente, tra l'altro sottolineato, che verrà valutata la possibilità della videosorveglianza. Anzi, per la verità, sottolinea il Corriere delle Alpi, Padrini dice che la videosorveglianza è tra le priorità. Turismo in ripresa, con il 40% in più di presenze all'ufficio turistico in Piazza Maggiore, a Feltre. Il Presidente Gorza, l'ufficio è diventato un supporto anche per chi organizza eventi e manifestazioni. Una provincia più inclusiva, il Centro Internazionale del Libro Parlato, pronto per le Paralimpiadi del 2026. Busche, laboratorio alimentare in ritardo di un anno e mezzo. L'opera doveva essere consegnata a luglio 2021, ora si parla di fine 2022. Zanella è una struttura fondamentale per sostenere le produzioni della zona. Sicurezza idrogeologica, cantieri in febbraio, a Schivenin e Falladen, in comune di Quero Vass. Ideal standard, avanti con le tre offerte, due settimane per verificarle. Il tavolo regionale si è dato tempo fino al 15 febbraio per approfondire i piani. Zaia, il presidente della regione, auspica e raccomanda di fare presto e bene. Scontro fra due auto in via Belluno a Brivano. E poi c'è l'articolo che approfondisce il dramma capitato ieri a Sedico con Alberto De Villagobbo travolto e ucciso sulla strada mentre andava al lavoro in bicicletta. Sviluppo e turismo. Cinque comuni alleati, Pontanelle Alpi, Alpago, Chiesa, Stambre e Sovergene concorreranno insieme ai fondi PNRR per la rigenerazione urbana. Accordo di programma per la scasa del sole di Pontanelle Alpi. Parte l'iter di programma. Nominata la nuova direttrice di Asca. Si tratta di Giorgia Zunino, la dirigente originale di Genova ha ricoperto incarichi di prestigio in tutta Italia. Cortina, Lema Price chiederà sei settimane di cassa integrazione. Il tribunale chiude il cantiere all'ospedale. Andrea Padrin, della Filca Cisle, non si riprenderà a lavorare così presto. Serio rischio che la consegna dei lavori non avvenga nel tempo previsto. E dal Corriere delle Alpi passiamo al Gazzettino di Belluno. In prima pagina, uccisa dalla frana, inchiesta riaperta. Questo è il titolo principale. La famiglia di Carla Catturani, dottoressa di Cortina morta a Riogere, non si è mai arresa alle archiviazioni di Belluno. La procura generale di Venezia ha accolto la richiesta. Per ora c'è una sola indagata, una dirigente di Veneto Strade. Andiamo all'interno del giornale dove viene approfondita questa notizia. Beffa per Veneto Strade fu l'unico ente che si spese per la messa in sicurezza. La difesa ricorda che nel 2017 la società presentò un paio di interventi mai realizzati. Cartelli affissi in città, stella di Davide come il Green Pass, l'ultima iniziativa dei Novax bellunesi nel giorno della liberazione di Auschwitz. Belluno e Feltre tappezzate da volantini che sono stati distribuiti vicini alle scuole. I fogli sequestrati dalla polizia locale di Belluno che procede per affissione abusiva. La Digos per ora non indaga. Condanna unanime di questa iniziativa dalla regione a Roma. Scelta triste. In ogni dissenso occorre civiltà. 50 anni senza buzzatti. Impossibile fare di più. Diversi gli eventi per ricordarlo. Molti fondi sottratti da Vaia e Virus. Il sindaco Massaro costretti a dirottare da altri capitoli importanti risorse per le emergenze. Diverse le strade in sua memoria. Per noi è stato l'ambasciatore nel mondo di Belluno e delle sue montagne. Siamo sempre sulle pagine del gazzettino di Belluno. Eccoci a Feltre. Il presidente della provincia Padrin al Negrelli dopo il raid. Basta vandali. Ora telecamere. Condanna del gesto che è stato compiuto. Spero che questi teppisti vengano individuati. L'ente pubblico ha intenzione di ottenere fondi dal PNRR anche per la riqualificazione energetica. Libro parlato in vista delle Olimpiadi. Qui un'eccellenza ha sottolineato ancora il presidente della provincia Padrin. Volontariato in lutto a Dio al grande cuore di Paolo Titton. Siamo sempre a Feltre. È stato ucciso a 50 anni da una leucemia contro cui combatteva da fine luglio. Imprenditore. Abitava a Farra ma era originario di Pez. Era segretario dello sci-club Villa Bruna. Il Covid cancella carri mascherati e feste in piazza. La proloco di Quero, Alano e Finer. Le proloco hanno deciso di soprassedere. Per il secondo anno consecutivo è tutto sospeso. Gallina di Quero, troppi vincoli da far rispettare. Ideal Standard di Tricchiana, due proposte italiane e una dall'Asia per la ripresa dello stabilimento. Il presidente Zaia riserva per tutelare offerte e lavoratori. Non sono stati fatti ancora i nomi di chi si è fatto avanti per rilevare lo stabilimento di Tricchiana. Falciato in bicicletta, muore operaio 51enne. Alberto de Villagobbe, di Radio Sedico, stava andando a lavoro alla Luxottica investito da un'auto all'Andrisse. Inutili i tentativi di rinemazione, durati per quasi mezz'ora. Per il ciclista non c'è stato nulla da fare. Conducente sotto shock. Gli amici ricordano la vittima. Era solare. Con lui si parlava sempre di montagna, sciate e bicicletta. In cielo col Papa, tuo grande amico. Ieri il funerale di Monsignor Darif, celebrato dal Vescovo, con la presenza di 46 sacerdoti nella cattedrale di Belluno. Il prelato sarà sepolto nel cimitero del suo paese. Il Vescovo Marangoni, in paradiso, sarà il primo segretario nella beatificazione di Giovanni Paloprimo, a cui eri molto legato. Pieve di Cadore, crisi. La minoranza sta con il sindaco. Dopo le dimissioni di due assessori, una nota delle opposizioni pronti a sostenere questa amministrazione. E per quanto riguarda lo sport, uragano Renon all'Olimpico. Stiamo parlando di hockey su ghiaccio. L'afrocortina in casa è stata battuta 4-0 dal Renon. Dolmen trionfa in Coppa Europa. A tre anni dall'ultimo successo azzurro a livello continentale, la 24enne di Pilos di Cadore, ha vinto la discesa austriaca di Sant'Anton. C'è chi ha bisogno di più tempo per emergere. Questo è il miglior momento della mia carriera. Però che ansia, ha dichiarato la giovane Elena Dolmen, che è anche ritratta in foto dopo il successo conseguito. In pista La porta bandiera a Maioli, tra i 100 concorrenti, domani in gara sulla pista San Zen a Socrepes. È di scena a Cortina, infatti domani la Coppa del Mondo di Snowboard Cross. La memoria Una questione di cultura Dal capoluogo a Cortina, molte iniziative oggi e domani per le vittime dell'Olocausto. Si chiude qui questa edizione della Rassegna Stampa. Tutti voi il più cordiale a risentirci.